solana ed ethereum attenzione intanto le meme su solana specialmente questa ovvero f w oggi ragazzi la rana su solana è esplosa facendo dei gain impressionanti ma che cos'è andiamo a vedere solana che stiamo vacillando sulla soia dei 130 dollari purtroppo dai oltre 150 dollari dopo che c'è stato il crollo di bitcoin il crollo delle altcoin ad ora stiamo entro queste soglie qui male anche un pochettino per ethereum che andato a perdere molto nella giornata di oggi ma che cosa sta succedendo lo andremo a vedere in questo video benvenuti su online manager ragazzi lasciate un bel like iscrivetevi al canale e accendete la campanellina delle notifiche per i nuovi aggiornamenti vi lascio tutti i link in descrizione tra cui il link del canale telegram tra le varie notizie su solana troviamo quella del ceo di benchmark tronca le speranze gli etf spot su solana non verranno approvati nella giornata di oggi siamo andati anche a ritestare le soglie dei 125 barra 123 dollari ma c'è una meme ragazzi su solana che effettivamente ha fatto numeri e sta esplodendo questa meme f w oggi questa simpaticissima rana che ha preso molta popolarità sulla block chain di solana arrivando a totalizzare dall'ultima rottura un bel più 600 per cento naturalmente ragazzi ad ora attenzione alla fomo perché con queste percentuali un ritracciamento è quasi sicuro quindi non fatevi prendere dalla fomo dal treno perso assolutamente no ragazzi bisogna sempre fare attenzione mi raccomando per quanto riguarda ethereum siamo andati a ritestare le soglie dei 2300 dollari nella giornata di oggi ad ora siamo sopra ai 2400 dollari e abbiamo una notizia molto importante ovvero la creazione di ether vista su ethereum per creare e lanciare meme coin in un articolo su the cryptonomist ether vista arriva su ethereum con nuovi blocchi di liquidità per prevenire il rag pool abbiamo anche un evento importante riguardante ethereum ovvero l'eth milan 2024 per quanto riguarda gli etf su ethereum ragazzi male molto male perché nella giornata di ieri abbiamo chiuso con outflow oltre i 40 milioni di dollari sappiamo bene che da quando è partito il trading sugli etf spot ethereum diciamo che è stato effettivamente un vero flop detto ciò amici vi ricordo che tutto quello che dirò nel video non è assolutamente né un consiglio di investimento in finanziario né di trading fate sempre le vostre valutazioni nel caso andiamo a vedere subito prima iniziare ragazzi vi ricordo tap bit exchange no casey insieme a mxc exchange no casey possiamo andare a fare trading spot in future senza fare registrazione documenti vi lascio i miei link con i migliori bonus e sconti di commissione a vita andiamo a vedere subito solana ad ora 133 dollari ragazzi come detto all'inizio eravamo andati a ritestare le soglie 124 barra 123 dollari market cap più 2,65 per cento ad ora volumi in in crescita del 62 per cento anche se nel settimanale ragazzi abbiamo diciamo iniziato questo trend qui al ribasso sostanza andiamo a vedere sulla chart riguardo il mensile di solana ragazzi male perché effettivamente stiamo diciamo sul mensile abbiamo la chiusura del mensile ragazzi dove solana ha toccato i minimi di 110 dollari all'incirca ad ora se andiamo a vederla su un'ottica giornaliera possiamo vedere che solana sta effettivamente cercando di tenere questo supporto super importantissimo dei 125 dollari supporto che abbiamo visto nelle scorse giornate naturalmente ritestato e ritestato quindi in sostanza questo è un supporto effettivamente da non varicare perché supporto veramente molto forte e diciamo nella settimana e nella scorsa settimana anche abbiamo preso questo trend in negativo che ha portato diciamo dalla resistenza dei 660 dollari ha portato solana naturalmente a totalizzare un meno quasi 24 per cento ad ora nelle ultime giornate però stiamo lateralizzando il prezzo in questa fase di lateralizzazione di prezzo e abbiamo una stocastica che ci è andato a dare proprio un segnale buy nella giornata di oggi come ben vediamo qui vediamo se verrà riconfermato oppure no oppure diciamo il prezzo di solana andrà a rompere questo supporto importante fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate rsi zona 42 andiamo alle notizie che vedevamo prima il cio di benchmark tronca le speranze di atf spot su solana non verranno approvati siamo su un articolo di crypto news in sostanza che cosa ha detto nonostante le aspettative l'amministratore delegato di benchmark ha messo i dubbi sulla possibilità di un atf spot su solana secondo lui non verranno approvati o almeno non nelle stesse modalità di quelle su ethereum e bitcoin la ragione principale risiede nell'assenza di un mercato dei future regolamentato per solana a differenza di bitcoin ed ethereum che possono contare su contratti future regolamentati su piattaforme come il cme solana non ancora questa infrastruttura la secolo considera un requisito fondamentale per l'approvazione degli etf spot basati su asset crypto questo per questo motivo solana si trova in una posizione svantaggiata fatemi sapere la vostra visione riguardo gli etf spot su solana ragazzi questa meme coin andiamo a vederla prima di vedere ethereum è diventata la nona più grande su solana in meno di un mese stiamo parlando di quello che vi dicevo prima di fw oggi sol fw oggi su x che conta 13.000 follower che ha fatto dei gain pazzeschi ad ora non andremo a vedere comunque questa simpaticissima rana quindi stiamo parlando di una vera e propria meme coin su coingeco ragazzi possiamo ben vedere in un mese il pump che c'è stato dove ha portato il prezzo di questo asset a totalizzare diciamo ad ora possiamo dirlo un diciamo un perotto ok quindi capitalizzazione di mercato parliamo di 84 milioni e 417 mila dollari ad ora andiamo avanti questo è il sito di fw oggi naturalmente ragazzi sempre attenzione attenzione dopo andremo a vedere anche un attimo sulla chart e su telegram abbiamo 4761 membri quello che vi dicevo prima ragazzi ecco qui abbiamo avuto un 640 per cento dall'ultima rottura che c'è stata qui c'è stato un bellissimo entry point stiamo sul giornaliero fatti dal momento del lancio su dex ragazzi qui avevamo questa bella wedge rotta diciamo perfettamente ragazzi rotta molto perfettamente la giornata del 22 agosto da questa rottura in poi ragazzi un più 600 per cento 650 per cento naturalmente è tanta roba e ad ora ci troviamo in questo trend positivo in sostanza per questo asset qui dove abbiamo questa su questo supporto dinamico molto importante ok però attenzione come sempre alla fomo andiamo a vedere su un'ottica oraria quello che sta facendo questo asset eccoci qua qui abbiamo questo supporto importante che dicevamo prima stavamo sul time frame giornaliero ad ora ragazzi come ben vedete è andato a toccare il suo massimo di 0,96 sostanza qui ha provato a sfondare e rigettata quindi diciamo molto buono questo supporto dinamico andiamo avanti parliamo di ethereum e ethereum ragazzi la giornata di oggi abbiamo ritoccato addirittura è andato a crollare fino ai 2300 dollari all'incirca ad ora abbiamo dei incrementi sui volumi più il 57 per cento market cap più 1,27 per cento ad ora ha recuperato nelle ultime ore come ben vediamo in sostanza ethereum eccoci qui stiamo in questa zona qua ragazzi dove c'è questo supporto qui importante nella precedente fase anche di accumulazione per quanto riguarda ethereum e stiamo parlando del supporto di 2300 dollari appunto quello che è andato comunque si ha provato a sfondare proprio nella giornata di oggi e poi prontamente riassorbita dopo con questa lunga shadow ad ora anche qui stiamo lateralizzando il prezzo riguardante ethereum andiamo a vedere su un'ottica mensile dato che il mese comunque sia sia concluso pochi giorni fa abbiamo questa situazione qui mensile diciamo in dai 3.250 ragazzi ai minimi di 2.100 all'incirca ragazzi quindi diciamo che nel mensile stiamo in un trend effettivamente negativo con una stocastica che nel mese scorso nel mese di luglio ragazzi ci aveva dato un segnale in short ad ora riconfermato andiamo a vedere le notizie ethervista arriva su ethereum con nuovi blocchi di liquidità per prevenire rug pull che cos'è praticamente consente agli utenti di creare e lanciare meme coin seguendo l'esempio del deployer di meme coin basato su solana pump fun ok l'abbiamo visto in un altro video ethervista è un exchange decentralizzato DEX che introduce un nuovo approccio alla gestione della liquidità al lancio di token sulla rete ethereum una delle sue caratteristiche principali è il blocco della liquidità per 5 giorni per i creatori che aiuta a prevenire rag pull spesso riscontrati nei primi 4 giorni al lancio di un progetto su piattaforme come pump detto ciò andiamo avanti e th a milano 2024 a settembre torna a milano la conferenza più grande d'italia su ethereum web 3 siamo su un articolo decrypto.org e in sostanza l'evento del 26 al 27 settembre il creato teatro franco parenti una delle sedi più prestigiosi della città con più di 100 speaker troviamo sponsor di robin hood cripto abba abracadabra finance story protocol 21 share eccetera 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 andiamo avanti gli etf inflow outflow diciamo più che altro giornata di ieri oltre 47 milioni di dollari in outflow per quanto riguarda l'etf ethereum quindi un vero e proprio flop per quanto riguarda questi etf spot su ethereum detto ciò amici siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere se conoscevate questa m conne che esplosa su solana che cosa potrebbe succedere se effettivamente andremo a rompere questi supporti importanti riguardanti solana ed ethereum detto ciò amici ci salutiamo qui ci vediamo al prossimo video ciao a tutti